Da dove posso iniziare? Ok. Sono Lara Croft, un'archeologa dell'Endurance, naufragata su un'isola nel Triangolo del Drago, a est del Giappone. Questo luogo è incredibile. Ho visto relitti risalenti a centinaia d'anni fa. Noi siamo i primi, e so che non siamo soli. C'è qualcosa che non va in quest'isola. Se non dovessi uscirne viva, forse qualcuno troverà queste mie parole. Lara! Qual tu? Ho trovato qualcosa! Ho un brutto presentimento. In cima all'antura! Cerca un brutto portale! C'è qualcosa che vuole! C'è qualcosa che vuole divino! Davvero incredibile Li conosco Sono simboli rituali La figura femminile mi colpisce molto È stata realizzata di recente Di sicuro dagli isolani Che a giudicare dai relitti sono giunti qui come noi, naufragando Straordinario Speriamo di non diventare assassini come loro Prova ad azionare quell'altro Manca la maniglia Insieme Merda Niente da fare Devo trovare qualcosa di più robusto per girare Qui intorno ci sarà qualcosa di utile Incredibile Funzionerà Me ne servono altri Qui intorno ci sarà Via! Non, non, non. Oh, no. Sopre quello che cercavo. Serve qualcosa di più robusto. Serve qualcosa di più robusto. Sopre. 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 Ancora un po'. bene dovrebbero bastare sistemiamo questa piccola a chi sarà dedicato bene dovrebbero bastare mi serve qualcosa di più robusto ti sei lara proviamo ad aprirlo proviamoci whitman io sono pronto considerata l'epoca dei simboli potrebbe essere la regina del sole imico adesso inizia a parlare come sen whitman è fuori dubbio che detenesse un grande potere sciamanico per alcuni elementare tutte le donne potenti prima o poi vengono accusate di stregoneria non scarterei alcune ipotesi per quanto irrazionale gli uomini hanno ancora molto da imparare sul mondo ora parli come mio padre ci aspettano scoperte eccezionali se riusciremo a raccontarle incredibile è imico ma guarda la ciotola le candele perché continuano a venerarla quest'isola doveva far parte di yamatai avevi ragione lara il regno perduto è come trovare atlantide con la sola differenza che è reale non è un mito no questa è una miniera d'oro venite presto i vostri amici stanno male già forse a causa loro indietro non c'è no vi seguiremo ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo che stai facendo aspettaci ci penso io no lasciatemi vai vai con loro lara fai come dicono no dicono ma vabbiamo al aspetta spieghi Mocchì! Lasciatele stare, mi prego! Io ho detto, a tu vede... ...хорошенькая, da? ...Napоминаешь moю sestru. Scopo! Scopo! Oh no! No! Ocružite! Ocružite! Solo provi rupiti! Ocruite! No! Eccola! Merda!